Prepara il tuo domani, scegli la tecnologia, scegli l'Istituto Tecnico Industriale Statale Aristide Merloni, con quattro indirizzi, grafica e comunicazione, opzione carta, chimica, materiali e biotecnologie, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Vieni, ti aspettiamo nelle giornate di scuola aperta, domenica 2 dicembre, sabato 15 dicembre, domenica 16 dicembre e domenica 20 gennaio, sempre dalle ore 15 alle ore 18.